l'autosquadra le bacchie siamo davanti al garage di max nell'aiuola le fragole sono ormai mature ciao max tutto bene le fragole sono mature mmm che buon profumo raccogliamole una due tre quattro e cinque ma le fragole non sono vere bacche vediamo nel gioco delle doppie figure frutti e bacche mirtillo via la fragola ecco il mirtillo olivello spinoso lampone no ancora lampone sappiamo dove si trova eccolo spinoso ribes rosso ciliegie no ancora ciliegie sì ribes rosso ciliegia non quella la carta in basso l'abbiamo già vista ciliegie fragola abbiamo appena vista la seconda carta fragola è rimasta il lampone anche mimì sta cercando delle carnose gustose bacche che stai guardando mimì uva nera e bianca evviva il grappolo è composto da bacchi gli acini che sono il frutto della vite un grappolo due grappoli tre grappoli quattro grappoli cinque grappoli che meraviglia un camioncino giallo percorre la strada principale sì è boh attenzione la sbarra si sta abbassando passerà il treno trasporta uno due tre cubi tra tante cose qui ci sono anche delle bacche olivello spinoso un osso un osso non ci serve delle more bacche di rovo buonissime con questa tartaruga vorremmo giocare tutti ma non è il momento fragole una due tre resta un pallone ma la partita la faremo un'altra volta evviva abbiamo fragole bacche l'armadio nasconde una sorpresa mmm così rosso forse avete già capito infatti è il ribes rosso prendiamo le bacche e buttiamo il rametto e ora fuori tutto quello che avete raccolto uva bianca e nera cinque grappoli uva bianca e nera cinque grappoli uva bianca e nera cinque grappoli prendiamo le bacche e buttiamo il raspo ci manca qualcosa e sta arrivando ma che cos'è? mirtillo ottimo le bacche e via il ramoscello uno due tre e quattro uno due tre e quattro frutta e bacche squisitissime buon appetito squadra buon appetito bambini alla prossima avventura con l'autosquadra